Durante la vigilia di Ferragosti i cittadini di Milena celebrano la festa di Sant'Antonio Abate, giunta alla sua 126esima edizione. Da 15 anni l'organizzazione dell'evento è curata dal Comitato Sant'Antonio Abate, coinvolgendo anche il Comune, il tutto con la guida del Parroco della Parrocchia Immacolata, Vulgo, San Giuseppe e Don Luca Milia. Quest'anno ritorneranno i festeggiamenti di un tempo, un fitto programma di appuntamenti che comincia l'11 agosto fino alla vera e propria giornata di festa il 14 agosto. I festeggiamenti inizieranno già a partire dal mattino con il suono a festa delle campane di tutte le chiese e ancora le note suonate dalle bande musicali, il corteo mattutino, la benedizione di tutti gli animali domestici sul sagrato della chiesa madre e poi i momenti di preghiera e la processione nel pomeriggio per le vie del paese. La serata si concluderà con musica e cabaret e spettacoli pirotecnici. Parla di carattere identitario il comitato organizzatore, riferendosi ad una festa dunque che ritorna dopo il periodo pandemico rispettando tutti gli appuntamenti tradizionali. Noi nel nostro piccolo facciamo la nostra parte, si legge, restituendo a tutta la comunità di Milena la sua festa di Sant'Antonio Abate, per come essa è stata sempre celebrata.